Oltre un migliaio fra alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno partecipano al monitoraggio della circolazione del virus responsabile di Covid-19. Il progetto di Ulst Dolomiti si chiama Scuole Sentinella e prevede una campagna programmata di test agli alunni asintomatici. Siamo partiti a Feltre con l'Istituto Superiore e la prossima settimana partiamo via Belluno. Abbiamo circa 80 classi di ragazzi. In provincia di Belluno le scuole individuate nella rete sono l'Istituto Comprensivo 2 di Belluno che comprende le scuole elementari di Fiammòi, Quartier Cadore, Cavarzano e Mordicadola, la scuola Medianievo e l'Istituto Superiore di Feltre che raggruppa Negrelli, Colotti e Rizzarda. In totale le classi monitorate sono 80. In questi giorni sono stati somministrati quasi 480 tamponi ai ragazzi preparandogli e formandoli. Sono già stati riflettati circa la metà e sono ancora tutti negativi. Ogni 15 giorni ai ragazzi viene offerto gratuitamente un test molecolare per la ricerca sulla saliva del virus responsabile di Covid-19 che deve essere eseguito al mattino a casa prima di lavare i denti. Il campione è analizzato in un laboratorio di microbiologia. La situazione aggiornata delle scuole vede in carico all'ULS 1 due sezioni di una scuola dell'infanzia e due classi di scuole superiori, mentre il bilancio del monitoraggio eseguito dal team scuola nell'ultima settimana è decisamente positivo. Abbiamo una riduzione delle classi in sorveglianza e questo insomma ci fa sperare in un avvio d'anno molto più sereno di quello che abbiamo già vissuto.